Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Ultraottantenne cade dalla scala mentre raccoglie le olive in un albero del giardino di casa trasferito in elicottero al Torette di Ancona Per i carnevali storici di Venezia, Via Reggio e Fano La proposta di legge è presentata da Lara Ricciatti per ottenere ulteriori fondi Tutti pazzi per Gabriele Garco A Sant'Angelo Invado Folla per l'attore arrivato in elicottero Tra i premiati anche la giornalista Cesare Buonamici Nelle Marche vivono 554 centenari Questa sera ne festeggeremo uno che viva Dorciano Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Cominciamo dalla cronaca Un ultraottantenne residente in via Galvani nel quartiere di Sant'Orso a Fano è stato trasferito in eliaambulanza al Torette di Ancona dopo una caduta da un albero Achille Principi, vedovo poco dopo le 15 di oggi era salito su una pianta d'ulivo nel suo giardino di casa utilizzando una scala dalla quale però è scivolato perdendo l'equilibrio e battendo violentemente il capo Le grida di aiuto dell'anziano hanno attirato l'attenzione dei vicini che hanno allertato il 118 e attivato l'elisoccorso che è atterrato nel vicino campo da calcio Cambiamo argomento Il Carnevale di Fano insieme a quelli di Venezia e di Viareggio è certamente uno dei più antichi e storici carnevali d'Italia Adesso c'è una proposta di legge presentata dall'onorevole tra l'altro fanese Lara Ricciatti di Selle che intende chiedere e premiare se vogliamo questi tre carnevali storici con ulteriori fondi Sentiamo Questo fine settimana a Fano si è fatto con un convegno un po' il punto della situazione sul futuro del Carnevale di Fano Assolutamente sì e io penso che ogni istituzione debba dare il proprio contributo Quindi io ho scelto insieme a altre colleghe e colleghi di maggioranza di opposizione di presentare una proposta di legge per provare a finanziare attraverso l'ampiamento di 5 milioni di euro il FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo anche il Carnevale di Fano insieme a tutti i carnevali storici d'Italia quindi Venezia e Viareggio Lo faccio perché penso che il Carnevale di Fano debba riacquisire quel tema e quell'idea di cultura popolare perché il Carnevale di Fano deve essere anche un grande connubio legato alla cultura e al turismo e quindi anche una sorta di idea imprenditoriale finanziare il Carnevale di Fano per aiutare i nostri commercianti i nostri ristoratori, i nostri albergatori e per ridare alla città di Fano una vocazione non solo appunto provinciale ma addirittura nazionale È una proposta trasversale anche altre persone, altri partiti hanno condiviso quindi il Carnevale unisce? Assolutamente sì come le cose belle, colorate e allegre il Carnevale di Fano è quello dolce da gustare e bello da vedere penso che possa essere anche il punto di unione non solo fra partiti ma anche fra culture e penso appunto che questa debba essere un'occasione per portare Fano alla ribalta delle cronache nazionali per portare Fano non solo come esempio appunto di imprenditorialità che passa per la cultura e il turismo ma che per una volta possa anche essere presa ad esempio Lunedì scorso sono ripresi i lavori di asfaltatura nella strada comunale del cimitero di Rosciano che si trova inserita in uno dei sei lotti che compongono il piano generale delle asfaltature comunali questo tratto di strada mette in sicurezza una importante arteria molto frequentata anche per la presenza del cimitero i lavori dovrebbero concludersi nel giro di un paio di giorni iniziati nel frattempo anche i lavori di preparazione alla stesura del manto di asfalto in via Baretti che collega la strada di mezzo di Rosciano con via Galilei poi si proseguirà con via 4 Novembre e via Papini Enri Secchiaroli dopo il successo degli Sbancati si presenta con un altro film e i protagonisti sono gli attori del San Costanzo Show Pronto? Ciao, sono io? È un bene che ho trovato qualcuno che mi ascolti perché vedi sto proprio in un momentaggio sto in un momento di crisi, capisci? Sto proprio per le pezze sto alla frutta, sto a terra cioè raso terra, sottoterra, capisci? perché... Ah, hai la ferramenta Stortoni Stregati dalla Bruna il film di Enri Secchiaroli con i comici del San Costanzo Show debuterà nelle sale cinematografiche di Fano il 31 ottobre prossimo ma oltre che nelle sale questo film rappresenta un debutto per motivi diversi sia per gli attori che per il regista Enri Secchiaroli perché dopo due produzioni in dialetto fanese si concede ad un testo in lingua italiana ma al 90% poiché il 10% del film è recitato in vernacolo marchigiano in quanto sono stati presi attori che provengono da diverse zone delle Marche che portando con loro accenti e inflessioni locali ci faranno fare un bel tour regionale È un film al 90% in italiano c'è questo 10% di dialetto, come dire, marchigiano perché c'è un po' l'inflessione del dialetto civiltavanovese ma è pesarese, è l'interno della provincia e quindi ci sono vari dialetti che si mescolano quest'anno però principalmente è un film in italiano è un'avventura carina, ci siamo divertiti tantissimo Io mi chiamo Rieta Pedotti, tutti mi chiamano Rieta Pilotti perché dico il catacolo dei gran pilotti, ma mi chiamano niente Il debutto per i ragazzacci del San Costanzo Show è quello per la pellicola in quanto con questa produzione cinematografica sono passati dalle polverose tavole dei teatri locali al grande schermo con tutta la loro travolgente comicità Si scoprirà all'arcano? Eh certo, solamente dal 31 ottobre in tutti i cinema del mondo Sì, sì, come diceva prima Dani, siamo rocamboleschi guarda, mi è piaciuto, adesso lo diciamo sempre No, no, è stato una bella mix di peripezie, acrobazie cinematografiche che vedrete al cinema, insomma Io sono Romina Antonelli, vengo da Ancona e faccio la bruna anzi, precisamente da Osimo, visto che il film è capillarmente marchigiano Si mischieranno le acque? Eh, si mischieranno, voglio, si mischieranno Speriamo che non si rompono le acque, se no, ma c'è, lui è vero il sindaco È il corrispondale adiato, bene, auguri allora Grazie, auguri, grazie Ebbene, quindi non rimane altro che vedere il film E adesso andiamo a Sant'Angelo Invado dove domenica c'è stato un successo di pubblico per Gabriel Garco e per altri VIP che sono stati premiati con il tartufo d'oro Una folla di tutta l'età ha salutato l'arrivo a Sant'Angelo Invado di Gabriel Garco Ospite VIP della 53esima mostra nazionale del tartufo bianco pregiato delle Marche Manifestazione seconda in Italia solo ad Alba che ha saputo coniugare in un mix perfetto cultura, spettacolo ed enogastronomia Il suo elicottero è atterrato allo stadio verso le 10.30 e man mano che passava nei minuti la piazza iniziava a riempirsi L'attore torinese è stato protagonista principale del tartufo d'oro Kermesse inserita nell'ambito della mostra che come ogni anno vede salire sul palco di piazza Umberto I, personaggi di spicco di vari ambiti e settori Sul palco assieme a Garco anche l'attrice Adua del Vescovo ed i fondatori della Ares Film SRL Alberto Tarallo e Teo Losito rimasti estasiati dalla bellezza dell'antica Tifernum metaurense hanno detto sarebbe la location ideale per una nuova fiction Ah perché di importante era divertente quindi mi hanno chiesto di venire comunque mi consigliavano questo premio e l'ho accettato quindi non sapendo che sarei dovuto andare a Zurico fare tutte queste cose ormai avevo detto di sì e per me è importante comunque mantenere la parola data e sono venuto Una piazza Umberto I stracolma di gente che non poteva essere altrimenti vista la caratura delle personalità presenti personalità che spaziano dallo sport all'industria, alla finanza, all'imprenditoria, alla cultura, al giornalismo tra i 12 premi assegnati uno è andato proprio all'emblema del giornalismo nazionale una persona che con passione, professionalità ed impegno è sulla breccia da ormai 30 anni molti dei quali passati alla conduzione del TG5 delle 20 Cesara Bonamici, presi da assalto anche ristoranti e stuzzicherie e la tensostruttura di Piazza delle Erbe che una giornata complice il bel tempo è stata davvero memorabile Riapriamo per un attimo la pagina di cronaca Un cacciatore senza licenza e che utilizzava richiami vietati dalla legge è stato identificato dagli agenti della questura di Pesaro che nella mattinata di oggi e domenica hanno effettuato diverse verifiche sul rispetto delle norme in materia di caccia I controlli si sono concentrati nelle zone di Caglie del Monte Catria, San Vitale e la Vallata del Foglia Le maggiori anomalie riscontrate riguardano la selvaggina battuta e il trasporto di armi da caccia Ai controlli hanno partecipato anche gli operatori del servizio veterinario dell'Asur che hanno guardato anche i cani In tutto sono state controllate una trentina di persone e numerosi veicoli Il 28 e il 29 ottobre ci si terrà una città da gustare dove si parlerà di cibo e tecnologie Ecco, ecco, prendi il piatto sporco, mettilo sotto l'acqua e strofina forte con lo spazzolino Caterina strofina forte con lo spazzolino Era il 1980 e io e Caterina, l'esilarante film di Alberto Sordi alle prese con una robotica governante sembrava pura fantascienza Ma vi possiamo assicurare che ai nostri giorni, in alcuni casi, come sempre avviene la realtà supera la fantasia Le macchine sono presenti in ogni settore della nostra vita privata e professionale e i robot governati da intelligenze artificiali sono più presenti di quanto possiamo immaginare anche in un settore come quello dell'enogastronomia dove sì, vigna e campo sono ancora l'essenza ma in aiuto del uomo le macchine sono diventate ormai le vere protagoniste Di questo rapporto così stretto si parlerà nella due giorni di Una città da gustare il 28 e 29 ottobre La tecnologia supporta non solo l'uomo nei lavori di fabbricazione, di produzione e anche negli atti amministrativi ma supporta a pieno titolo anche l'enogastronomia che è il tema di oggi Infatti noi possiamo vedere che la tecnologia è presente in tutti i settori della filiera produttiva a partire dalla semina del prodotto agroalimentare fino alla trasformazione, fino ad arrivare al cibo nelle nostre tavole Conferenze, dibattiti e approfondimenti con i più esperti in materia di cibo e tecnologie per approfondire questo rapporto tra uomo e macchina, tra cibo e tecnologia con un programma di grande spessore Le macchine e le macchine che in un modo sempre più invasivo entrano nelle cucine entrano in quelli che sono tutti gli eventi del nostro vissuto quotidiano vanno capite perché se le capiamo, se le conosciamo ovviamente le possiamo usare per stare meglio Tutto questo è una due giorni per capire come si possono conoscere queste macchine per imparare a usarle e perché anche in cucina diventino dei buoni strumenti per stare meglio Conferenze, dibattiti e approfondimenti con i più esperti in materia di cibo e tecnologie per approfondire questo rapporto tra uomo e macchina con un programma di grande spessore Abbiamo pensato a questi due giorni di studio sull'enogastronomia assolutamente non pensando a ripetere un'ennesima fiera o una rassegna enogastronomica ma riflettere insieme sulle problematiche dell'enogastronomia dell'alimentazione, del cibo quando questo a volte è anche esagerato e anche sprecato come ci racconterà per esempio un grande professore sostenitore dello Specco Zero che è Andrea Segret che sarà con noi sabato sera 29 ottobre e poi voglio ricordare e questo secondo me è un momento al quale sarei felice che partecipasse alla cittadinanza perché le penne in piazza sono venerdì 28 ottobre e gli chef che al mattino partecipano a questo incontro al pomeriggio in piazza Andrea Costa proporranno un piatto di penne alla matriciana di mare cioè i calamari che sostituiscono la pancetta e quindi la cittadinanza è invitata con un bicchiere di buon bianchello a festeggiare insieme questa giornata degli chef Siamo arrivati alla pagina sportiva vedo già in postazione Matteo Del Vecchio Sì, grazie Marco sono veramente tanti gli argomenti in scaletta questa sera nella nostra rubrica sportiva come sempre il calcio in primo piano ma poi spazio anche a tantissimi altri sport partiamo dal campionato di Lega Pro dove torna a vedere il bicchiere mezzo pieno l'Alma Juventus Fano che pareggia 0-0 nella tana del Feralpi Salò lascia il penultimo posto in classifica ed agguanta il Teramo a quota 7 un Fano che si è presentato al cospetto di una delle squadre più forti del girone senza alcun timore reverenziale ed in alcune occasioni ha sfiorato anche il colpaccio come nel caso della traversa di Masini nei primi minuti un punto d'oro per i Granata che fa morale in vista della suggestiva sfida di sabato prossimo quando al Mancini arriverà il Parma dagli altri campi segnaliamo la vittoria per 4-3 del Bassano sulla San Benedettese nel big match di giornata e l'1-0 con il quale lo stesso Parma supera il Mantua facendo di fatto un favore anche al Fano che con il punto conquistato sabato si lascia alle spalle i biancorossi mantovani piccola parentesi come di consueto sui campionati di calcio a 5 in cui militano le formazioni fanesi in Serie B maschile sorride solo l'Alma Juventus che sbanca per 5-3 il campo del Cus Macerata e sale a quota 7 dove si trova anche il buldo Glucrezia che sabato ha conosciuto la sua prima sconfitta stagionale dopo quattro partite perdendo per 7-0 in casa contro la corazzata Angelana e perde in casa anche l'età beta che seppur dando segnali di miglioramento è ancora ferma a quota 0 5-4 il punteggio con cui i ragazzi di Barnesi sono stati sconfitti al circolo tennis Fano dal Torre Savio Cesena sa solo vincere invece in campo femminile il Flaminia Fano che nella terza giornata del campionato di Serie A supera in casa il Boulet Sport Village Novara e lo fa con lo stesso punteggio con cui aveva vinto le precedenti sfide ossia 4-2 per la squadra allenata da Alessandra Imbriani doppietta di Capitan Berti e sigilli di Bonito e Falcioni per un primato confermato uno invece che lascia la città di Fano dopo solo una settimana è quello del Fano Rugby che con la sconfitta 30-22 a San Benedetto si fa scavalcare in classifica proprio dei Biancorossi per i ragazzi di Franco Tonelli due mete di Nicola Cadeddu una di Stefano Rossolini e sette punti di Alessandro Gasparini cambiamo decisamente argomento e parliamo ora di Bocce con il bel risultato conseguito nello scorso weekend a Roma dai ragazzi dell'Ispod Fano nella capitale sabato e domenica si è svolto infatti il primo campionato italiano a squadre organizzato in collaborazione tra la Federazione Italiana Bocce e la FISDIR Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale medaglia d'argento per la squadra fanese targata Icepod e Bocciofila San Cristoforo composta dai plurititolati Manuel De Mar e Manuel Anniballi e dalle nuove leve Jacopo Primavera e Riccardo Conti come sempre seguiti dagli allenatori Gianni Vagnini e Romolo Giovannini ed un'altra competizione a livello nazionale ha caratterizzato il weekend nella città della fortuna alla pista d'atletica Zengarini infatti la locale società di Ultimate Frisbee ha organizzato l'edizione 2016 dei campionati italiani misti 11 le squadre partecipanti provenienti da tutta Italia e vittoria finale del Red Shot Bologna sui cugini del Red Bull terzo posto per i croccali di Fano cui va comunque la medaglia d'oro per essere riusciti a portare nella nostra città una manifestazione così prestigiosa e sempre in tema di eventi prestigiosi parliamo ora del secondo trofeo Lamberto Tonelli una gara podistica che ha portato ieri a Fano 850 atleti provenienti da Marche, Umbria, Emilia Romagna e Toscana 10 i chilometri previsti, dislocati tra centro storico e zona mare e vittoria finale di Mirko Pettinelli di Corinaldo nel maschile e Valeria Baldassarri di Pesaro nel femminile inserita all'interno della competizione anche una gara non competitiva di 5 chilometri e diverse attività per i bambini l'evento è stato organizzato dal gruppo podistico Fano Corre e chiudiamo la ricca pagina sportiva di questa sera facendo una rapida panoramica sui campionati di volley in seri C maschile perde in casa la Virtus sconfitta per 3 a 1 da Gugliano mentre in C femminile prima vittoria per la Pavlucrezia del neo allenatore Morris Meloni che spugna 3 a 2 il campo dell'Urbania iniziato nel fine settimana anche il campionato di prima divisione femminile dove segnaliamo nel girone A la vittoria per 3 a 0 del volley Pesaro in casa della Fulgor Fano e nel girone B il 3 a 0 con cui il Monte Granaro volley Pesaro ha battuto l'Adriatica Fano con il volley si chiude la pagina sportiva di questa sera vi ringraziamo perché siete sempre più numerosi a segnalare i vostri eventi sportivi all'indirizzo sport-lafanotv.it purtroppo non tutte le segnalazioni riusciamo ad accogliere ma voi continuate a scriverci che prima o poi riusciremo a dare spazio a tutti per questa sera non ci sono più notizie l'appuntamento a lunedì le Marche sono la regione dei centenari pensate sono 554 i marchigiani che hanno più di 100 anni e 457 sono le donne il dato emerge da un'elaborazione di confartigianato che ha analizzato i dati Istat Ancona è la città la provincia tra le province con più centenari lì ci abitano 159 persone che hanno già superato i 100 anni seguita da Pesaro Urbino con 147 e noi questa sera festeggiamo invece Donato Campitelli nato a Casoli il 20 ottobre del 1916 ma residente a Urciano di Pesaro praticamente dal 1957 dove abita tutt'ora con sua figlia minore e tre dei suoi nipoti e l'altro giorno ha appunto festeggiato i 100 anni Donato ha sempre svolto l'attività di contadino interpresa da ragazzo in terra abruzzese nel 1973 è rimasto vedovo di sua moglie Maria venuta a mancare a soli 54 anni Donato oltre che occuparsi del lavoro nei campi ha dovuto crescere ben 5 figli ieri insieme al sindaco del paese che gli ha consegnato un attestato di riconoscimento c'erano anche appunto i figli i nipoti per i nipoti che lo hanno festeggiato con una torta con sopra le 100 candeline e auguri dunque noi ci fermiamo qui occhio alla notizia torna domani vi ricordo che la diretta di Fano TV si può seguire anche in streaming quindi attraverso internet e di conseguenza anche attraverso gli smartphone basta collegarsi all'indirizzo occhionotizia.it io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata a a a a a a a